we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi come sempre in tempo reale su questo canale trovate il fortbite giornaliero ogni giorno dopo pochi minuti trovate sempre il video con le spiegazioni anche se mi killano spesso e volentieri quello di oggi invece ragazzi di fortbite si trova in un negozio di taco vicino ad una pista a bordo mappa e ovviamente ragazzi la pista a cui ci stiamo riferendo non può che essere quella nel bioma del deserto quella che hanno rifatto ragazzi la pista da kart che conosciamo tutti se non vado errato e andiamo a vedere ragazzi se non vado errato dovrebbe essere nel piccolo negozietto che si trova sulla destra andiamo a dare un'occhiata ragazzi se non è quello altrimenti riproveremo nell'unica altra pista presente in game che è quella vicino a crocevia del charpame vediamo un pochettino qua c'è un negozietto ed infatti come state vedendo ci sono già delle costruzioni quindi molto probabilmente vicino al bancone si troverà il fortbite nuovo non è un problema se mi killano tanto il posto l'avete capito ragazzi vediamo se il tipo riesce a non ammazzarmi dai non mi ammazzare dai comunque il fortbite è qua ragazzi come vedete numero 77 lo andiamo a prendere grazie a tutti per aver guardato questo video noi ci vediamo domani mattina in live alle otto e mezza ciao ciao